E' stato siglato questa mattina il protocollo d'intesa regionale per la promozione del piano garanzia giovani tra le PMI, le piccole e medie imprese della Campania e la regione Campania assessorato al lavoro e alla formazione. La PMI Napoli Campania riconosce nelle attività di orientamento dei giovani uno strumento utile sia per favorire una scelta più consapevole dei percorsi formativi e una conoscenza più diffusa del mercato del lavoro sia per ridurre il rischio del fenomeno dello skill mismatch. A tal fine la PMI Napoli Campania intende promuovere d'intesa con la regione Campania momenti di formazione e informazione rivolti alle giovani generazioni. Percorsi formativi, dinamiche del mercato e del lavoro, sblocchi occupazionali, strumenti e medoti per l'ingresso nel mercato del lavoro. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente malinconico delle PMI della Campania. Le piccole imprese soffrono di quello che è il carico e la spesa per la formazione. Tutte le aziende hanno questa difficoltà che non permette loro di poter spesare quello che è la formazione dello studente, parlando dello studente perché è quello l'ambito maggiormente da seguire. Quindi questo protocollo intesa attraverso questi finanziamenti permette alle aziende, alle piccole aziende soprattutto, di poter portare verso la sua azienda lo studente o il giovane un percorso di formazione in modo da poter essere pronto nel momento in cui c'è la vera necessità di poter assumere delle persone. Questo permette il protocollo d'intesa. Sicuramente non è la soluzione alla disoccupazione ma permette di alzare la qualità delle persone e avviare e dare opportunità ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro. Soddisfazione per il protocollo d'intesa siglato nelle parole dell'assessore Severino Nappi che ha così spiegato. La cosa interessante di questo accordo con le piccole e medie imprese della Campania sono proprio i soggetti con i quali noi lo chiudiamo. Questa è una regione nella quale le imprese sono piccole e piccolissime. Il coinvolgimento loro nello stimolo per garantire e mettere a disposizione le opportunità dei nostri ragazzi finanziate dalla regione è sicuramente un segnale positivo perché sono gli autentici interpreti del nostro sistema produttivo. Quindi io sono molto grato a PMI per aver raggiunto questo accordo con noi per sostenere le misure di garanzia giovani campane perché ci dà il segnale di un'attenzione delle nostre piccole imprese, quelli che realmente...